Ciao a tutti, sono Denise e volevo condividere con voi il motivo per cui ho preso online marketing per Mentecati 2.0 praticamente subito. Come tante altre persone la cosa che mi ha conquistato immediatamente è il modulo Soul Mindset. Secondo me è l'equipaggiamento di cui abbiamo bisogno per creare qualsiasi cosa, che sia un business ma anche magari dei cambiamenti nella nostra vita. Cioè abbiamo bisogno di un atteggiamento, di una forma mentale che ci supporti e spesso le prime cose che dobbiamo imparare a fare sono fregarci del giudizio degli altri, imparare a pensare con la nostra testa, ignorare tutte quelle persone che cercano di rubarci il tempo e le energie e quindi essere un po' più egoisti ma perché giustamente vogliamo ottenere dei risultati, vogliamo raggiungere degli obiettivi anche importanti. Quindi se mi stai guardando in questo momento magari ci stai pensando non è un vero e proprio obiettivo di business, magari sei tra quelle persone che seguono il big cercando di capire come potrebbero sviluppare un business, prendilo, prendilo subito perché già soltanto dal punto di vista del mindset veramente il corso è strepitoso. Io sono già al secondo giro e ascoltarlo veramente non smetteresti mai. E la cosa bella è che mentre ascolti la lezione fai anche la riprogrammazione, quindi non solo ti insegna che cosa devi fare per riprogrammare la tua mente in modo utile, ma mentre ascolti fai anche la riprogrammazione. Quindi secondo me è veramente un lavoro strepitoso. Lo consiglio a chiunque, lo consiglio soprattutto se in questo momento stai cercando un cambiamento, anche al di là del business. E poi veramente il valore che c'è nel corso, le live, il corso proprio sull'online marketing, penso che siano di valore inestimabile e Big Luca l'ha sicuramente dimostrato. Per me, seguendo il webinar, quando è uscito questo, se ne è uscito con questo, con questa sua nuova bomba, ho detto vabbè non ci sto neanche a pensare, ho contattato il mio, come si dice, il membro del VTA, il mio membro di fiducia, che è Alessandro Bertone, che ringrazio perché è sempre veramente disponibilissimo. e quindi sono, diciamo così, per usare una parola semplice, sicuramente le aspettative sono ampiamente superate, sia sul corso e sia sul team di vendita perché sono veramente spaziali. Quindi prendi Mentecate 2.0 adesso e fai un investimento che sicuramente ti frutterà tantissimo. Ciao a tutti!